La cocaina partiva dal Brasile, veniva stoccata in Svizzera e poi trasportata in Lombardia per essere ceduta ai grossisti, tra i quali figura un soggetto albanese di particolare rilievo criminale. E' scattata stamane l'operazione della Guardia di Finanza che con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria ha stroncato un traffico internazionale di droga. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per 24 persone nelle province di Reggio, Catania, Messina, Vibo, Valencia, Salerno, Milano e Pavia. 15 sono finite in carcere, 9 domiciliari. Il blitz è il seguito dell'operazione Magma eseguita sempre dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Reggio e dallo SCICO che nel 2019 aveva portato a 45 arresti e destrutturare la cosca Bellocco di Rosarno. L'inchiesta di oggi ha confermato la forza e la capillarità sia nazionale che internazionale dei narcos calabresi che continuano a porsi come interlocutori privilegiati con le più qualificate organizzazioni mondiali. Questo grazie alla disponibilità di ingenti capitali di provenienza illecita e alla spiccata capacità di gestione dei diversi segmenti e snodi del traffico che hanno permesso ai Bellocco di consolidare un ruolo rilevante nel narcotraffico internazionale. La cosca di Rosarno infatti, secondo l'accusa, si sarebbe servita di preferenziali e collaudati canali di approvvigionamento esteri. Gli uomini del colonnello Silvari, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Reggio, hanno così ricostruito i contatti con le organizzazioni che avevano le basi operative in Albania e Brasile. Da Sud America era arrivato in Calabria un esponente dei narcos per incontrare un esponente dei Bellocco e risolvere problematiche legate al pagamento di una partita di cocaina. L'inchiesta avrebbe consentito inoltre di scoprire come la cosca producesse in propri ingenti quantitativi di cannabis, curandone poi la lavorazione. Nei mesi scorsi sono state sequestrate 1.227 piante di cannabis e 74 kg di droga e due soggetti sono stati arrestati. Le piazze di spaccio siciliane venivano rifornite di droga attraverso appositi corrieri.